Un concerto in ricordo dei caduti nelle missioni internazionali di pace nel mondo. È quello che si è tenuto ieri sera a San Severo presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi. Un evento nazionale organizzato dall'amministrazione comunale, dall'assessorato alla cultura e dall'associazione ONLUS Mario Frasca, di cui è presidente il papà del militare deceduto Antonio Frasca. È in collaborazione con la società musicale e bandistica Città di San Severo e con il maestro Antonello Ciccone. Un evento che gode del patrocino della regione Puglia e della provincia di Foggia. Si sono insibiti l'orchestra di fiati e il coro Città di San Severo, guidati dal direttore artistico della manifestazione Maestro Ciccone. L'inno nazionale è stato eseguito dagli alunni della scuola elementare delle Suore Sacramentine di Bergamo. Poco prima dell'evento musicale, un corteo con le autorità civili, militari e religiose si è recata perso Piazza Allegato, dove è stata deposta una corona del loro, dinanzi al monumento ai caduti. All'unisono il sindaco Francesco Miglio e l'assessore alla cultura, avvocato Celeste Iacovino, hanno dichiarato che con la nuova amministrazione il Comune intende ricordare tutti i militari italiani, complessivamente 177, che sono caduti dal 1950 ad oggi per difendere nelle missioni internazionali la pace nel mondo. La serata è stata magistralmente presentata dal giornalista di San Severo Desio Cristalli e vi hanno preso parte anche i genitori e i familiari dei militari deceduti per difendere la pace, autorità civili, militari e religiose. Una cerimonia a ricordo del caporal maggiore di Orta Nova scomparso il 23 settembre 2011. Mario Frasca, militare di 32 anni dell'esercito italiano, caduto nella missione militare internazionale di pace all'estero, missione ISAF in Afghanistan, durante l'adempimento del proprio dovere. La manifestazione nasce dall'attività appunto di voler cercare di realizzare un evento in cui si ricordassero tutti i caduti per il loro gesto, la loro azione eroica a nostro parere per quello che hanno fatto per la nostra patria e quindi per portare nei vari teatri operativi in tutto il mondo i valori più alti della nostra democrazia, quindi di pace, libertà, solidarietà. L'evento è stato voluto dall'associazione ma anche, bisogna dire, dalla sensibilità locale, quindi delle istituzioni locali, dal nostro amico maestro Antonello Ciccone, che appunto insieme abbiamo cercato di dare vita a questo spettacolo, perché poi la musica come linguaggio universale può servire, secondo la nostra idea, poi insomma a dar vita a volte anche un po' a questo messaggio che è latente dell'operato dei nostri militari che purtroppo fanno un lavoro eccellente, prestigioso, decoroso, orgoglioso, voglio sottolineare, perché comunque rappresentano l'Italia, il meglio dell'Italia nei vari teatri operativi nel mondo, nelle varie terre martoriate che abbiamo in giro appunto nel mondo Afghanistan, Iraq, Djibouti e tante altre e quindi realtà difficili, lontane da noi ma nello stesso tempo devono stuzzicare e sensibilizzare appunto i nostri animi. La nostra idea, la nostra volontà è quella appunto di dare vita ad attività e manifestazioni di questo genere. Oggi da San Severo, piccolo comune del Foggiano, partiamo con questo ricordo, quindi questo concerto, questo evento musicale. Speriamo che poi dia vita a tanti altri eventi dello stesso genere o anche di fattura diversa, ma comunque sempre mossi e spinti dall'iniziativa di ricordare, di tenere viva la memoria dei nostri caduti, dai più piccoli, quindi alle generazioni più piccole fino ai grandi, per far sì che i nostri caduti non vengano dimenticati ma che si faccia sempre alta memoria e quello che più possiamo fare, ricordare per loro e celebrare. Per me questa sera è stato emozionante partecipare a questa manifestazione organizzata dal comune di San Severo a cui faccio il mio applauso. Credo che sia importante ricordare i caduti in queste missioni di pace, perché questi ragazzi giovani danno la loro vita per portare la pace in posti dove la guerra è purtroppo occasione di morti, di giovani, di persone che vivono momenti terribili. Quindi un grandissimo applauso a questi giovani che perdono la vita per portare la pace in questi posti. Noi ogni anno ricordiamo tutti i ragazzi che sono caduti nella loro funzione istituzionale, militare per difendere la patria, soprattutto nelle missioni di pace, laddove ci sono paesi arretrati, soprattutto da un punto di vista politico, dove bisogna portare principi e valori quali sono quelli della nostra democrazia. Ogni anno ricordiamo in questo fantastico contenitore che è il Teatro Verdi, tutti i ragazzi che sono caduti per servire la patria, che sicuramente è un valore che non va dimenticato, anzi esaltato, soprattutto con le giovani generazioni.